Ciao a tutti ed eccomi qua in Animal Crossing Elite, sono andata subito sull'isola e vedo che c'è un'altra giocatrice in Glacity di Claudia e vediamo un po' di salutarla E ciao a tutti, Claudia, benvenuta, cioè ben vista più che ben trovata Ma che bello, c'è un cappellino con dei bignè C'è il banco, ma che bel vestito blu, mi piace, mi piace Andiamo a fare un po' di pescas, di spesa, stavo per dire, ma mi serve più a pesca, secondo me più che pesca, spesa Allora, voglio noleggiare, benissimo, benissimo Guarda, da tanto che non trovavo qualcuno sull'isola, sono proprio entusiasta, devo dire Ok Intanto c'ho, come sempre, da reintegrare i mille soldini, le mille stelline del biglietto E quindi andiamo subito a pescare, cosa prendiamo in mano? Ecco, subito la canna da pesca E secondo me andiamo a pescare un pesce tranquillo e banale, come potrebbe essere una spigola che troviamo anche nella nostra isola Ma non se ne frega di niente Proprio, cioè, non gli interessa la nostra pesca Eccola, forse ci siamo Attenzione Ehi, quanto ci mette? Vai Vai Ah, no Però anche questa si trova sull'isola, è una platessanza, è una sogliola Abbiamo la sogliola Ok Quindi Claudia, Claudia, ecco Claudia è sull'isola, stavo pensando come si chiamasse, non mi ricordavo Sta pescando, quindi lasciamola nella sua zona Io vado su questa, ho visto un bel pescione Vediamo Oh 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 E' la miseria Ho preso un pesce Napoleone Per dindirindone Tocco, sì Ma hai cambiato la rima Chissà Dici un po' Ma che bel vestito Mi piace questo vestito bluet Gli ascio, magari aveva visto un pesce, glielo lascio Poi Il pesce Napoleone Oh Per baccone Per baccone, lo dico anche io Perché adesso ho visto una bella pinna A noi la pinna A noi ci piace pianicchio Quando vedo le pinne Oh Oh Per dindina Ho preso uno squalo balena Questo Per dindirindone E lo squalo Napoleone No Qualcuno se ne va Ciao Ciao Claudia E rimaniamo di nuovo da sole Peccato Avevamo trovato qualcuno Però Si può dire che non era un'isola deserta Questa volta E adesso È davvero deserta Vabbè Aspettiamo un altro pochino Facciamo un'altra ricerca di pesci Non so Ma anche di farfalle Non saprei Perché ho preso la pala Che di solito non serve mai Prendiamo la mantide Religiosa Prendiamo il biglietto Fermi tutti Fermi tutti Vabbè Poi Altri pesci? No Anche i limoni Si possono prendere Che non sono Autotoni Della mia terra Quindi io ho la pesca Come Frutto iniziale E quindi Mi vale di più Quando vado a vendere Ottimo Limoni Guarda te Non c'è nessuno Ale E Ale Sei Qualcuno è arrivato Sono emozionatissima Cos'è un traffico In quest'isola Oggi C'è veramente Wow Era una vita Che non accadeva Questa cosa E sono veramente Emozionata Un evento Nemmeno fosse Natale O Pasqua Grande Grande Mi piace Basta che non creasci La connessione Vediamo chi è arrivata Ah Di nuovo Claudia Ari Ciao Claudia Ribenvenuta Siamo collegate Io e te Te ed io Saremo in tutta La Tutta Nintendo Io e te che andiamo sull'isola Oggi pomeriggio Va bene Ari Eccolo Ciao 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 Come sempre Il saluto Che utilizzo Sul canale Il saluto Contra Distinguitorio Così Tanto per dire Che ci Codra Distingere Scusa Sto cercando Di andare Con Con Un'amica Ah ok Ah Qualcuno Sta cercando Di rientrare Nell'isola Con un'amica Non lo so Che server Come funziona Allo smistamento Dei server Claudia Non saprei esserti Daiuto Quindi È abbastanza Casuale Forse ti conviene Spengere E accendere il gioco Per cambiare O la connessione Anzi Meglio la connessione E niente Quindi Riera di nuovo Claudia A volte Capita che Rimani connesso Non so E vediamo Che cocchi Va Visto che Giuse Sono qui Sei Due E quattro Aspettiamo Magari arriva Qualche Un altro Tanto Noi Facciamo Riserva Ma sai Cosa c'è Sei Basta Otto Ci fermiamo Perché Nove Bisogna Iniziare Un altro Cesto Nove È il massimo Che contiare Un cesto Ok E là Vai Mi fermo Otto Limoni Non ce ne sono Più Vado intanto A posare Un po' Di roba Sul Dentro La cesta Bene In questa L'amanti Della Soglia La farfalla Limoni Il pesce Da paletone Per Dindirindina Lo squalo Balena Ok Dai Facciamoci Un giochetto Facciamoci Uno easy Che magari Dura poco Così Non allunghiamo Tanto il video Prenotiamo Un tour Ok Voglio andare A pesca Allo squalo 6 minuti Caccia Di insetti Infatti Minima 5 minuti Se acchiappare Inzetti Se acchiappare Inzetti Sta diventando La tua attività Preferi Approvo Questo tour Di livello Avanzato 5 minuti Anche quello Avanzato Tiro il palloncino Cerchi Cerchi una scusa Per più scarica Gambri Agoste Ce ne sono Diversi Ok Arriva qualcuno Allora non andiamo A fare il tour Sì 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 Forse Ria Claudia Probabilmente La sta smestando Nel mio stesso server Chissà Lo scopriremo Solo dopo Il salgo Appoggio No Non è Claudia Questa è un'altra bambina È Gioia 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 Niente gioco Oggi Conosciamo la gente Che arriva sull'isola Così Vediamo Forse Mi sa che Gioia Problemi di connessione Tristezze Qui Non Ci vede Ha freddo Timide Ciao Gioia Niente Ok Allora Mi sa Mi sa che sta per crashare Gioia Questi sensazioni Mio che non abbia Da fare E ha fermato Un attimo il gioco Ok Allora Noi Continuiamo a pescare Anzi Sai cosa c'è Mi metto la muta Non faccio il gioco Perché magari Se Gioia Si riprende Possiamo pescare assieme Non so Fare due chiacchiere Andiamo Andiamo a fare Una pescata molluschesca Coniamo i termini Così Vedo che Vedo che Praticamente sul fondale Non c'è molluschi Non c'è assolutamente niente Eccolo Eccolo invece Come non detto Mi hanno fatto bugiarda Prendiamo questo Vedrà le nalga Invece no Un'anguilla di giardino Ma allora Ma allora Che ci faceva Sott'acqua Effettivamente Ottima Costatazione Bom Andiamo Continuiamo Nota 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 Molluscom Cosa c'è Un'ombra Ho preso Un Nautilus Miticus Ok battutone Prego Prego Continuiamo Andando avanti Nella nostra lottata No Trollavo Se c'era sempre Gaia Oppure Aveva crashato Mi sa che ha crashato A parte se crashava Ce lo dicevo Questo è un polpo Guarda come nuota Questo è un polpo Lo riconosco Da come nuota Vai Eh Ho visto Ormai Lo riconosco Il polpo Non mi fugge Aiuto Ho avuto un'illusione ottica Pensavo fosse uno squalo E in realtà Era La palma In alto A sinistra Una nemone Vai 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 Facciamo un bel punteggio Oh Mi inganna la palma Sembra sempre uno squalo Un altro Nautilus Mai faccio il giro Il giro Della lottata Sub Aiuto 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 Medusa Scampata Ciao Ciao Gioia Aspetta Perché ora Un attimino Mi sono immersa Un po' troppo presto Bene Vai Vai Qui sono un po' troppo Al bordo Se ne sta andando Se ne sta andando Se ne è andata Ciao L'abbiamo persa Perché questa medusa Si sta inseguendo Allora Allora vado Sulla spiaggia Si Dove sei Dove sei Gioia Dove sei Ho annutato Dove sei Gioia Non ti vedo più Si dai Niente Ripersa Gioia Chissà Dove sei Gioia E se non arrivassi Qua giù E niente Eccola Aspetta Altre faccine Eccola qui Là Ciao Niente Fischietto E poi Non so Nuvoletta Sogno Ad occhi aperti E poi Non so Idea Un'ispirazione Punti domande Cosa starai facendo Gioia Aiuto Prendiamo Ciao Gioia Allora io a questo punto Ciao Andrei Vediamo un po' La stella Benvenuta Se non sei una seconda opzione Deposita Preleva E esci Esco Vai Ciao Niente Gioia Oh c'è la corona Che bella la corona Ehm Buon Io direi che Ciao Gioia È stato bello vederti Piccato che non Non si riesca A interagire Me ne vado via Vado Perché mi è arrivato Un nuovo personaggio E E volevo conoscerlo Un nuovo abitante Allora intanto Volto questo Questo Così poi portiamo Anche un po' Di questa roba Là E andiamo Verso casa No no Ho sbagliato E andiamo verso casa Torno a casa Niente Eh sì 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 Vado vado E chissà Chissà Chi sarà Il nuovo abitante Sì vado Di già Ciao 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 Le tasche Ultra Strapieni Quindi Niente Adesso Porto a vendere Un po' di Roma Aspetta un attimo Perché vorrei Lasciare delle maschere Qui di fronte Da Artù Allora No questo è un Artù Mamma mia Sempre da fare Anche del giardinaggio Qua La miseria Mamma mia Ho fatto crescere Una zona di bambù Senza registrare Sono andata a farmi Riconoscere i fossili Da Blatero Andiamo qua dentro Da Alpaca A vendere Un po' di oggetti E rifarci Inoltre vi volevo dire Che Ebbene sì Ho Finito Il maxi Schermo E adesso Andiamo a vedere Quanta roba c'è da fare Oggi Uno Due No C'è sto D'uova No Vai Questa sera Te lo fai a pesca Blondo Sì sì L'ho vinto L'altro giorno Quindi Vai vendo tutto Cioè Avevo anche Un pezzo Di bronze Mamma mia Vabbè Ok Andiamo A questo punto Allora Volevo andare a cercare Nuovo abitante Ortene di Porzia L'avevo già vista Greta Ivaristo No Gregorio Bonni Brina Lanella Lanella Andiamo dall'anella Nuovo abitante Tra l'altro Mentre andavo In là Ho trovato anche Il sasso Dei soldini E mi riprendo Ah cioè Tra l'altro C'è da andare a prendere Anche il pesce Napoleone E il pesce squalo Non ce lo dimentichiamo Allora vediamo Quanto ho guadagnato Su questo sasso Poco Mille Mille Cinque Ancora Mille Eh Tre due cinque Due mila Tremila E Tre mila Cinque mila Nove mila stelline Andata bene È stato più Facile trovare Il sasso Che è l'anella No questa non è l'anella Morena Non ti vedo da Che so Due settimane Sono alla presenza Importante qui Allora perché Allora anche pochi giorni Senza di te Sembrano vita interata Va bene Grazie l'anella Morena No l'anella L'anella È qua l'anella Sì È qua È qua Andiamo a vedere l'anella Andiamo a trovare l'anella Si è proprio strasfilita Oggi eh Un'altra pecorina Che abbiamo Bellina anche lei Ciao l'anella Ah tanto piacere Io mi chiamo l'anella Sono appena arrivata in città E devo ancora invientarmi Spero che mi aiuterai a scoprire stratula Quando mi sarò sistemata meglio Non vedo l'ora Ciao l'anella Ma vai tranquilla Ti aiutiamo noi Finalmente È arrivata anche l'anella Ma quanti bei personaggi Eh Vi ricordo Che Da il 23 novembre O 25 Comunque da novembre Potremo utilizzare Con il nuovo aggiornamento Che verrà fatto su Animal Crossing Potremmo utilizzare Le carte Amiibo E anche personaggi Amiur Mod Animal Crossing Questo È il maxi schermo Papara Papara Che bellezza Anzi In proposito di bellezza Oh Non ci sono caduta nella trappa Devo andare A prendere Napoleone Il pesce Napoleone mi è rimasto un po' in testa Quindi voglio andarlo a vendere E vedere quanto ci ricaviamo Ma non ho portato nemmeno un fiore Da trapiantare Mamma mia mi sono dimentichata Vai tranquillo Ma che faccio al contrario Devo fare 1, 2, 3, 4 Perché non ho Perché non ho appoggiato un attimino Ok chiudi ci appoggio Allora appoggio un attimino qua Che poi le riprendo La trappola La barra horror E poi se c'era il cesto di uova Va Raccattiamo Comunque ho recuperato i soldi del biglietto Arribò Sbagliavo direzione No c'ho anche questi due Vabbè allora Andiamo a vendere questa roba qua Vedi che prima non ho venduto Il Ora lo dico Ora lo dico I cesti di frutta Ah questi sono fiori Andiamo di qua Andiamo di qua Si schiva tutto Come se fossimo Asciugare Via Andiamo Ciao Alpaca Ci si rivede Veniamo di fare un po' di affari Parliamo di cose serie Allora E vedi non essere tirchia Per favore Bada 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 E poi bada Bada Facciamo i conti Facciamo i conti Non ho paura di fare i conti con te 34.000 stelline Oh finalmente Qualche cosa che supera una cifra Dei 20.000 Era l'ora Ma pego Oggi è buttata veramente ricca Abbiamo trovato tanta gente sull'isola E poi Abbiamo trovato anche Una nuova anella E poi C'è stato Il maxi schermo Cipicchiolina ragazzi Di giornata Veramente proficua Molto molto Mi piace Mi piace Ricca di 20 Vado a prendere gli ultimi oggetti E mentre vado a prendere gli ultimi oggetti Ho visto la durata del video Che inizia ad essersi allungata Prendiamo questa roba qua C'è Ritira Ritira gli oggetti Di qua Stavo sbagliando Stavo rimettendo E prendiamo tutti questi oggetti qua Tra l'altro Questi non sono A parte la trappola Non sono vendibili E niente Allora a questo punto Io Ti ringrazio per aver visto il video fino a qua Spero che vi sia piaciuta questa nuova puntata di Animal Crossing Se è così stato Mi raccomando Mettete un mi piace Condividete il video Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto E commentate 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 Fatemi sapere Utilizzate pure I miei video Per scambiarvi il codice amico Come ben sapete Vi ricordo che Io ho finito I posti Da un sacco di tempo Comunque Leggete benissimo Nella mia descrizione E cosa Quando Cioè Dico Oltre Ho finito i posti E altre cose Dico Con cosa registro Se avete magari delle domande Così Ebbene Adesso Io Vi saluto Ciao a tutti E al prossimo Video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie.